Il nuovo modello regionale di gestione sanitaria territoriale dei pazienti covid è stato illustrato questa mattina a Pescara dall'assessore alla salute Nicoletta Veri, affiancata dai direttori dell'Agenzia Sanitaria Regionale e del Dipartimento Regionale della Sanità, oltre che dai responsabili delle ASL abruzzesi. L'obiettivo è stato spiegato dall'assessore Veri e quello di responsabilizzare sempre più il territorio nella cura dei pazienti positivi al covid dando un ruolo principale al medico di famiglia che sarà affiancato dai medici ex USCA. Sono in aumento i casi di covid ma come noi sappiamo sono casi che non hanno una complessità da un punto di vista di assistenza però è importante valutarli e soprattutto seguirli e curarli attraverso una rete territoriale adatta proprio per loro. Noi abbiamo dopo la chiusura delle USCA organizzata quella che è un'attività proprio sul territorio finalizzata a questo tipo di assistenza ossia il medico di medicina generale rimane ad essere il punto fondamentale di questa rete però sarà affiancato nei giorni in cui lui non è presente da una unità di medici composta dagli ex medici usca che oggi hanno continuato attraverso un contratto a lavorare e attraverso la continuità assistenziale. Il paziente nei giorni in cui il proprio medico è assente può chiamare la continuità assistenziale dove troverà un team di medici ad ascoltare e dare quelle che sono le cure adeguate. Si apriranno degli ambulatori covid dedicati in base al diciamo alla ridistribuzione sul nostro territorio ambulatori dove si potranno eseguire quei test diagnostici importanti come diciamo primo elemento di risposta per poi valutare se il paziente deve essere ricoverato oppure deve avere un altro iter. Questa rete è fondamentale perché così facendo avremo la possibilità di ridurre gli accessi al pronto soccorso.